Ha messo la propria piena responsabilità, raccontando l'orrore di un pestaggio avvenuto con calci, pugni e anche con il manico di scopa che finora negava di aver utilizzato. Tony Esof di Badre, il 24enne italo-marocchino, reo confesso dell'omicidio del piccolo Giuseppe di 7 anni, figlio della compagna Valentina, casa e delle ferite inferte alla sorellina del bimbo di un anno più grande, è stato interrogato questa mattina dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, assistito dall'avvocato Michele Coronella, in sede di convalida dell'arresto avvenuto domenica scorsa a Cardito in provincia di Napoli, teatro della tragedia. L'uomo ha ammesso di aver colpito i bambini con calci e pugni ed anche con il manico della scopa e che la compagna ha tentato in vano di fermarlo, un particolare rilevante oggetto di attenzione da parte dei magistrati, questo per capire se ci siano state responsabilità nella drammatica vicenda. E' un ragazzo in crisi, distrutto, non riesce ancora a capacitarsi come abbia potuto fare un fatto così grave. Si è ammesso questo particolare racchierito che ha usato anche una mazza di scopa tipo bastone. Ha detto che è stato un momento di follia pura in cui non si è reso conto più di quelle che faceva e quindi è intervenuta, ha cercato di fermarlo e quindi c'è stato questo vuoto di due ore, tre ore, se forse si poteva fare qualcosa, lui era sceso giù per chiamare un'auto di passaggio, voleva un fatto occasionale e non hanno provveduto a chiamare immediatamente un'ambulanza, forse il vuoto è lì, quelle due ore lì che sono passate, forse il bambino si poteva salvare. Era una coppia in crisi da quello che emerge dall'interrogatorio, fra di loro c'erano sempre continui dissiti e non erano figli a lui, a ogni occasione era buono a besticciare, poi come ha perso il controllo.